buongiorno bambini oggi facciamo un lavoro sul libro di scienze quindi per fare questo compito vi serve un libro vi serve il libro blu di scienze a pagina 138 e poi vi servirà anche il quaderno per fare un piccolo lavoro sul quaderno che faremo dopo allora metto come al solito la data metto la data del 21 aprile che è il giorno in cui ho segnato il compito ma in realtà poi voi avete tempo tutta la settimana dopo a fare questo compito quindi dal 21 aprile fino poi al successivo martedì allora leggiamo un pochino cosa dice questa questa nuova pagina piante e semi allora parla quindi di piante questa volta non di animali ma di piante in particolare dei semi allora qui c'è una figura dove ci sono dei semini sono un po' ingranditi vedremo di che frutto sono questi semi ogni pianta nasce da un piccolo seme che cresce e si trasforma questi nella figura per esempio sono semi di limone li avevate riconosciuti sono semi del frutto di limone e rileggiamo un attimo questa frase ogni pianta nasce da un piccolo seme che cresce e si trasforma vi ricordate infatti che avevamo detto quando parlavamo delle piante che i semi sono un po i figli delle piante perché dai semini che cadono dai frutti vanno nella terra e viene da lì nascono nuove piantine vi manderò poi oltre a questo lavoro sul libro sul quaderno anche una serie di video che ho fatto su un esperimento in cui ho seminato dei semi di fagiolo e lì in tutta questa serie di video che vi manderò poi poco per volta vedrete proprio quello che dice questa frase cioè il seme messo nell'acqua nella terra cresce e si trasforma lo vedremo proprio trasformarsi nel giro di pochi giorni e poi lo vedrete nei video che vi manderò riguardo all'esperimento del fagiolo adesso andiamo avanti invece a vedere questa figura e questa è una pianta di limone questi sono i semi del limone questa è la pianta che fa i limoni vediamo che ci sono sulla pianta i frutti cioè i limoni i limoni appartengono alla famiglia degli agrumi e qui ingrandito c'è anche il fiore del limone che è bianco questi semini sono dentro ai frutti ovviamente quando spremiamo un limone infatti esce il succo e anche i semini ci sono dentro cosa dice la consegna collega le parole alle parti dell'albero quindi e questa è una pianta di limone collega le parole alle parti dell'albero questo lavoro l'avevamo già fatto a scuola con l'albero di ciliegio quello che abbiamo adottato noi che adesso avete visto nella foto che vi è mandato tutto fiorito e l'avevamo fatto anche per quanto riguarda il giacinto il bulbo di giacinto che avevamo in classe che anche quello è fiorito vi avevo mandato la foto vi ricordate che bisognava collegare i cartellini con le varie parti dell'albero e qui infatti c'è scritto ramo foglia frutto fiore tronco e poi dice anche nel terrino affondano le radici qua non si vedono in realtà le radici perché sono dentro il terreno questo vuol dire questa frase nel terreno affondano le radici vuol dire entrano nel terreno le radici quindi non le vediamo ma ci sono perché le radici servono all'albero ci ricordiamo per succhiare dal terreno l'acqua i sali minerali e quindi per portare su l'albero l'acqua che gli serve per vivere e crescere e anche servono le radici per ancorare l'albero al terreno in maniera tale che stia ben saldo e anche quando soffia il vento l'albero sta lì e non rischia di crollare allora vediamo un pochino di collegare queste parole allora le colleghiamo io direi semplicemente con una freccia per esempio ramo qui di rami ce ne sono tanti no ci sono quelli più grandi che partono dal tronco che è questo qui più grande e poi quelli più piccolini qua magari lo collego a questo qui poi foglia anche foglie ce ne sono tantissime colleghiamola a queste vicino frutto anche quest'albero è carico di frutti belli gialli colleghiamolo a questo o anche un altro che volete voi il fiore l'ha già collegato perché in realtà nell'albero adesso il fiore non ci sono perché ci sono già i frutti ma è qua nel quadro perché abbiamo visto con la foto dell'albero di ciliegio gli alberi da frutto in genere fanno prima i fiori poi spuntano le foglie e poi i fiori pian piano seccano e dal dal fio dai petali cadono e dal fiore che è seccato si sviluppa il frutto e dentro al frutto ci sono i semi allora andiamo un po' avanti vediamo l'esercizio sotto che riguarda invece altri semi non più quelli di di limone qua ci dice fai la carta di identità di ogni seme segui il modello allora leggiamo fai la carta di identità di ogni seme segui il modello la carta di identità sappiamo già cos'è come quella che abbiamo fatto dell'animale nome questo l'hanno già fatto pisello foto del seme ci hanno messo appunto la foto disegno descrizione tondo e verde tondo vuol dire rotondo e verde ok pisello che è un legume questo invece che cos'è questo qui è viola è un fagiolo viola fagioli ce ne sono di tanti tipi colori e forme diverse fagiolo fagiolo è anche questo un legume quindi foto del seme c'è descrizione questo diciamo che è una forma più ovale che rotonda rispetto al pisello quindi mettiamo pure ovale e di che colore questo qua è viola lo scriviamo pure sotto perché non ci sta tutto in una riga ovale e viola questo invece è un seme diverso degli altri due un seme di mais o grano turco e non è un legume ma il mais è un cereale è quello che è fatto in pannocchie tanti semi di mais formano la pannocchia di mais e se si trita molto finemente viene la farina di mais cioè la polenta quella con cui si fa la polenta quindi nome scriviamo mais foto del seme c'è descrizione che forma anche questa è una forma sul rotondo però non è proprio rotondo come il pisello mettiamo magari cosa possiamo mettere vediamo un po' descrizione vediamo un po' magari rotondeggiante mettiamo via perché sul rotondo qua anche se volete scrivere qualche parola di più va bene anche che a forma di goccia d'acqua vero o rotondeggiante o a forma di goccia d'acqua come volete voi perché qua c'è poco spazio non si può scrivere molto quindi rotondeggiante vuol dire che più o meno sul rotondo e di colore abbiamo detto è giallo scrivete pure se anche non ci sta in due righe anche su tre va bene ok adesso vi avevo detto che vi serviva anche il quaderno perché vorrei oltre a questo breve lavoro sul libro farne anche uno sul quaderno ora sapete che questo è un video quindi se adesso magari siete stanchi non volete continuare lo fermate e poi lo riprendete in un altro momento inoltre questa settimana essendo che di scienze facciamo due lavori più il video che vi manderò sull'esperimento del fagiolo che è comunque solo da vedere solo da visionare vi manderò solo scienze geografia questa settimana non darò compiti di geografia quindi possiamo mettere via il libro blu e prendere invece voi dovrete prendere il quaderno arancione di scienze io prendo un foglio comunque voi usate il quaderno ovviamente anche qui vi serve la matita allora come data io metto sempre il 21 voi ovviamente mettete la data in cui svolgete il compito non c'è problema 21 aprile 2020 ovviamente se mi raccomando dovete andare a prendere il quaderno dovete fare qualsiasi cosa interrompete il video e poi lo riprendete quando riuscite allora vediamo un po' volevo fare un lavoro proprio sui semi visto che abbiamo affrontato questo argomento sul libro vi manderò poi tutta la serie di video sul seme di fagiolo che ho messo nel che ho seminato allora anche sul quaderno facciamo un piccolo lavoro sui semi in particolar modo volevo confrontare con voi questi due semini questo è molto piccolo spero che lo vediate allora questo è un semino di riso il riso è un cereale e questo è un semino di riso questo invece è un seme di fagiolo come vedete che è sempre un fagiolo come quello del libro però quello là era tutto viola questo invece è sul rosa pallido con macchie viola si chiama fagiolo borlotto questo ed è un legume ok vediamo un po' allora io ho questi semini ce li avevo in casa e quindi chi ce li ha in casa li può a sua volta prendere e poi con lo scotch appiccicare sul quaderno chi non ce li avesse invece li guarda e li disegna con la matita poi li colora va bene in entrambi modi allora come consegna sotto la data scriviamo questo confronto tra semi confronto tra semi ok poi facciamo così circa a metà della pagina facciamo una riga per dividerla per dividerla oppure volendo si si poteva anche piegare si piega il foglio così a metà e rimane rimane diviso in mezzo come preferite e quindi confrontiamo abbiamo detto il seme di fagiolo con il seme di riso allora vediamo un po' e questi fagioli sono quelli che poi ho anche seminato che poi vi farò vedere appunto nell'esperimento allora qui da una parte scriviamo nel lato sinistro sotto la consegna fagiolo tra parentesi mettiamo anche che un legume va magari legume e qua sotto appunto chi ha un semino di fagiolo anche fosse diverso da questo un altro tipo va bene lo stesso lo mette con lo scotch e qua un chicco di riso se non ce l'avete lo disegnate e lo colorate con i pastelli di là invece scriviamo riso che è invece abbiamo detto un cereale ecco qua io li lascio appoggiati qui benissimo così li vedete adesso li osserviamo bene e li confrontiamo vediamo che differenze ci sono che forma hanno che colore hanno che tipo di grandezza hanno allora cominciamo magari proprio dalla grandezza mettiamo un pallino qua così e uno qua almeno scriviamo le cose in corrispondenza allora il seme di fagiolo com'è grande allora sono tutti e due piccoli diciamo però il seme di riso e il chicco di riso è molto più piccolo di quello di fagiolo possiamo dire che il semino di fagiolo non so è grande come un bottone per fare così un confronto allora è grande come un bottone invece andiamo dove abbiamo messo il puntino quindi sulla stessa riga diciamo sullo stesso binario invece il questo piccolo chicco di riso che non vuole star fermo invece è grande come è una goccia d'acqua non so ok poi andiamo adesso siamo arrivati qui quindi dobbiamo scrivere su questo binario qui questa riga la saltiamo almeno siamo sempre allo stesso punto nella descrizione torniamo al fagiolo vediamo adesso abbiamo parlato della grandezza vediamo il colore questo fagiolo ha un colore un po' particolare è vedete diciamo rosa chiaro con delle macchie viola quindi possiamo scrivere è è rosa a macchie viola direi invece torniamo dove abbiamo fatto il puntino il riso invece è giallo direi giallo chiaro marroncino questo è un pelo più scuro magari perché è un riso integrale quindi un pochino più scuro magari voi a casa avete il riso quello invece raffinato che è bianco è più chiaro di questo se avete quello scrivete è bianco invece questo qua scriviamo è giallo ok adesso io continuo qua la divisione anche qui anche qui dobbiamo andare sotto e quindi in corrispondenza allo stesso binario andiamo avanti con la descrizione fate anche voi in questo modo con i puntini magari vi fate dare una mano dai genitori almeno rimangono rimane uno schema fatto meglio adesso mettiamo com'è la forma e tutte e due io direi che hanno una forma ovale solo che il fagiolo è più cicciottello diciamo così invece il riso è più magrolino ma la forma è sempre rotondo allungato è ovale direi quindi per entrambi scriviamo è ovale benissimo poi l'ultimo confronto quindi questo viene sulla stessa riga e scriviamo quello appunto che dicevamo prima il fagiolo è più spesso invece il riso è più sottile cosa ho scritto qua? no ho scritto malissimo cancello allora quindi il seme di fagiolo lo scriviamo è spesso e invece quello di riso è sottile è più stretto diciamo così più magrolino benissimo e così direi che abbiamo finito il nostro confronto tra questi due semini un seme di fagiolo e un seme di riso ovviamente se a voi non ci sta su una pagina andate continuate poi proseguite sull'altra seguendo sempre magari lo stesso lo stesso schema che ho che ho seguito io va bene direi che basta così anche perché questo video è di 20 minuti ripeto questo lavoro sul libro blu e sul quaderno di scienze avete tempo tutta la settimana farò dal 21 aprile fino al martedì dopo e per questa settimana vi mando solo il compito di scienze perché è un po' più lungo rispetto alle altre volte e quindi geografia non c'è nulla da fare per questa settimana va bene ok al prossimo video allora ciao a tutti grazie grazie a tutti